Volkswagen Golf Volkswagen Polo e Ford Fiesta protagoniste del mercato La Volkswagen Golf è senza ombra di dubbio l'auto più venduta in Europa e questo primato dura ormai da diverso tempo Basti pensare che l'ultima volta che ha perso la leadership è stato nel marzo del 2009 quando la Ford Fiesta è riuscita a superarla nelle vendite Per quanto riguarda il 2011 possiamo dire che la Volkswagen Golf nel mese di marzo è a quota 53'055 auto vendute, poco meno delle 59'267 dell'anno scorso La Ford Fiesta si posiziona al secondo posto con 50'534 auto e al terzo posto troviamo ancora una Volkswagen, questa volta l'Apolo con 39'311 auto vendute Per l'Apolo questo è un ottimo risultato perché vuol dire più 4,2 rispetto al 2010, quindi l'unica delle auto sul podio ad aver incrementato le vendite rispetto all'anno precedente Scalando la classifica troviamo la Opel Corsa alla quarto posto e poi via via le altre Ford Focus, Renault Clio, Peugeot 307, Renault Megane, Citroen C3 e ancora una Volkswagen a chiudere la Top 10 con la Passat Le ultime posizioni della Top 10 sembrano essere ancora incerte dato che la differenza delle vendite è poca Mentre per quanto riguarda i primi posti tutto sembra consolidato Per quanto riguarda i primi posti tutto sembra